Abbiamo una grande fortuna, abbiamo da 40 anni il Servizio Sanitario Nazionale che ha lo scopo di prendersi cura di tutti noi. Questo non può rimanere un semplice articolo della Costituzione, ma deve diventare una cosa reale per tutti. Abbiamo bisogno che tutti i cittadini siano curati allo stesso modo, che abbiano le stesse attenzioni e che si sentano realmente cittadini del nostro Paese. Ed è per questo che è importante aderire all'iniziativa di cittadinanza attiva e diffondere la salute. Perciò chiediamo a tutti di dare un segno, un sostegno a una campagna che diventi nei prossimi anni un messaggio di attenzione per i cittadini italiani, perché attraverso la salute si può affermare che siamo tutti uguali.